Il caffè ci rende nervosi a volte, è uno sketch tipico della comicità italiana, anche loro aprono ufficialmente ieri, oggi e domani con la recitazione, gli facciamo un in bocca a loro, un gran applauso ai ragazzi del quinto liceo. Simone Renatti, Claudia Montrone e Marzia Ruggeri. Il caffè ci rende nervosi. Ma allora, secondo te, come dovrebbe essere il nostro rapporto? Non lo so, qualcosa di diverso, di speciale. Io chiedo al mio partner qualcosa di diverso. Desiderate qualcosa? Un caffè, con uno. Qualcosa di diverso, di speciale. Ma non dire stupidaggini, quello che mi chiede è un'utopia. Ah, un'utopia, pretendere che una donna cerchi nell'altro un qualcosa di diverso? Un caffè scorretto. Quale caffè è corretto? Quello l'ho ordinato lei. Io ho chiesto un caffè normale. E con questo adesso che ci faccio? Beh, ma se lo beva lei, no? Vabbè, quindi il caffè è normale? Sì, con utopia. Soltanto con utopia si possono arrivare a certe illusioni. Ma perché non lo capisci? Per me è tutto come prima. Eh, per me no. Sai come sento adesso il nostro rapporto? Ecco il caffè. Eh, non più normale, va freddo, freddissimo. Anche tu poi non sei più quel tenere amante di una volta, ma un partner più, molto, più dritto. Eh? Ma che dice? Bollente e dolcissimo. Ecco. Mentre in ogni tanna c'è il desiderio addente di un amore più... Di che? Eh, un amore più... Bollente e dolcissimo. Ecco, appunto. Bollente e dolcissimo. Eh. Quindi va bene? No, lo voglio freddo e corretto. E che intendi tu? Ecco che intendo io. Un amore, una passione. Più, di più. Ma dove si è dovuto saperlo, però? Sono tipo dalle mille smancerie io. E l'ho fatto perché è un affetto sincero, puoi di piano. Sarà anche come dici cena, è anche molto più... Che prezzo è corretto. No, amaro. Tanto amaro. Io ti sogniamo più morbido, più disponibile. Che figlio, cosa? Avresti voluto un amore romantico, un amore all'acqua di rose? All'acqua di rose? Eh sì, no, all'acqua di rose, dolce e dolcissimo. No, amaro, amarissimo. Eh sì, certo. Dolce e dolcissimo, no? No, amaro, amarissimo. No, dolce e dolcissimo. No, amaro, amarissimo. Potete trovare un accordo? No. No, va bene. Comunque è tanto che il caffè e addio per sempre, se arriva questo caffè. Cameriera, ma ce lo porto o no questo caffè? Viva Dio. Vai, comunque, ti prego, amore, pensaci bene, potremmo essere ancora felici io e te. Io ti offro tutto il mio affetto e tutto il mio amore. Eh, non lo voglio più. Non lo vuole più. Non lo vuole più. Ma tutti si via, questo è col l'umore, questo è col ludovia, questo è camaro, questo è dolce, questo è salato e questo è corretta la panna. Ma che fa? Eh, corretta la panna, io ho detto, no? Sì, sì.